Ci sono voluti i 45 minuti ma la Dinamo Banco di Sardegna torna a sorridere e trova la vittoria in trasferta espugnando il pala Carrara. Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco si impongono dopo un overtime sulla Oriora Pistoia, condotti da un super Dash 1 Pierre, autore di una doppia-doppia da 27 punti, 12 rimbalzi, 4 assist e 6 falli subiti per un totale 35 di valutazione. I padroni di casa partono forte e siglano il primo a lungo, i giganti contengono bene l'offensiva toscana e restano a contatto senza far scappare via i padroni di casa, 46 a 39. Nel secondo tempo il banco scende in campo con fame e agonismo, si riporta in parità e all'inizio dell'ultima frazione mette la testa avanti. Inizia una sfida punto a punto che non trova un padrone nel tempo regolamentare, all'overtime è la coppia Pierre Thomas a imporsi e mettere in cassaforte il successo sassarese. Domani la compagine bianco-blu partirà verso la Turchia dove mercoledì è in agenda la sfida di andata con il Pinar Karsiyaka dei quarti di finale di FIBA Europe Cup.